Matera, città del riscatto per il Sud, Matera città che scommette sul merito, la competenza e sul valore della progettazione. Lo ha detto l'8 di luglio a Roma Roberto Grossi, presidente di FederCulture, la federazione italiana delle aziende e degli enti di gestione di cultura, turismo, sport e tempo libero, in occasione della presentazione dell'undicesimo rapporto dell'organismo, un documento in cui si delinea il ruolo che la cultura avrà nei prossimi anni nel nostro paese e che ha un intero capitolo dedicato proprio a Matera, uno scenario a questo punto che vede a maggior ragione la città dei Sassi in prima linea nel futuro prossimo. A Roma erano presenti il sindaco Raffaello De Ruggeri, il direttore di Matera 2019 Paolo Verri, la manager per lo sviluppo delle relazioni internazionali di Matera 2019 Rossella Tarantino e il consigliere comunale Michele Lamacchia. Matera è stata riconosciuta come un modello appunto di coinvolgimento della comunità e quindi la cultura come un processo di crescita sociale e di partecipazione sociale che ha portato al riconoscimento. Diciamo che ormai Matera è sulla cresta dell'onda e quindi dappertutto si parla di questo oggetto misterioso che è Matera, che una volta era un oggetto dimenticato, oggi è un oggetto stimolante che si candida o viene riconosciuto come modello. Se la nostra città e la nostra regione vogliono essere d'esempio devono ulteriormente ridurre i tempi della burocrazia, questo sarà un altro grande tema che avremo nel prossimo anno di lavoro ed è un altro tema che si è toccato lungamente dentro il rapporto di Federcultura dove il rapporto tra pubblico e privato è stato messo in luce come un elemento determinante. Quindi Matera protagonista, Matera centrale nel dibattito culturale nazionale, Matera esempio di un'Italia che funziona in un'Europa in difficoltà e che come diceva il ministro della Cultura Melina Mercuri greco nel 1985 quando lanciò il proprio progetto di Capitale Europeo della Cultura deve puntare sulle città come elemento di coesione. L'esperienza di Matera è stata citata in diverse circostanze come quando Grossi ha sottolineato la necessità di esentare le città dei 51 siti UNESCO italiani dal patto di stabilità in occasione di investimenti. Sempre ieri la sindaco De Ruggeri ha incontrato il vice ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini tra le urgenze portate alla sua attenzione la bradanica, un intervento da completare al più presto vista la disponibilità di risorse finanziarie, la Murgia Pollino che collegherebbe la Basilicata sud-occidentale con l'innesto autostradale di Gioia del Colle, la Matera Ferrandina ed il miglioramento della strada ferrata con Bari.